Godland Pictures presenta la serie di film di scienza popolare scienza o finzione il regista ringrazia Anatoly Fomenko e Gleb Nozowski, colui che controlla il passato controlla il futuro, George Orwell in 1984. Nonostante il fatto che esistano ancora molti vuoti, gli storici discutono sul fatto che molto nel passato dell'umanità è ben conosciuto. Conosciamo gli eventi che hanno avuto luogo in differenti nazioni e differenti popoli, la sequenza di questi eventi, i nomi e le biografie di chi ha regnato per intere dinastie. Inoltre gli scienziati usano diversi metodi nel tentativo di chiarire dettagli e date degli eventi, oltre a ristabilire pagine sconosciute della storia. Gli storici credono che la scienza della storia si basi primariamente su documenti storici, così come i resti archeologici e gli oggetti rimasti che riguardano la cultura. Sotto molti punti di vista questo è vero, ma non è veramente così semplice. Come abbiamo mostrato nel secondo film di questa serie, quasi tutti i metodi delle datazioni tradizionali che vengono usati oggigiorno hanno significanti svantaggi e limitazioni. Inoltre per determinare l'età degli artefatti, dei reperti con questi metodi, il margine di errore può aggirarsi su centinaia, se non migliaia di anni. Tali esempi possono avere una datazione incorretta di migliaia di anni. Questo significa che alla cronologia tradizionale degli eventi storici non si può assolutamente fare affidamento. Si è verificato che la stessa storia è in larga misura un mito, un lavoro di finzione e che quanto conosce l'umanità del proprio passato è più o meno quello che comunemente si crede. Quindi come possiamo imparare la vera storia dell'umanità? Siamo in grado di scoprire almeno alcuni metodi per trovare la verità. Episodio 3. La verità si può calcolare. L'inizio Iniziamo con la storia della scoperta. Negli anni 1970 il matematico russo Anatoly Fomenko stava lavorando sul problema della meccanica celeste. Questa ricerca è veramente importante per scoprire i parametri della rotazione della Luna attorno alla Terra. Improvvisamente Fomenko trovò per caso un importante documento scientifico che riguardava esattamente questa ricerca. Questo lavoro era ridatto da Robert Russell Newton, un astrofisico e matematico americano, il capo del centro computer della NASA, che a quel tempo stava lavorando sulla rete di navigazione spaziale. Gli americani avevano calcolato i loro dati basandosi sulle date delle eclissi lunari prese da antichi documenti. In questi documenti erano elencate 370 eclissi. I scienziati americani possedevano le formule necessarie per analizzarle, ottenendo così una completa caratterizzazione del movimento del satellite naturale attorno al nostro pianeta. I risultati di Robert Newton, registrati nei suoi scritti scientifici, caddero nelle mani di Anatoly Fomenko. Se crediamo nello studio dell'astrofisico americano, troviamo che c'è un intervallo fra l'800 prima di Cristo fino al 1000 dopo Cristo, dove il movimento della Luna è cambiato drasticamente. Durante questo periodo di tempo, la Luna si presume abbia iniziato a muoversi più velocemente, per poi rallentare fino alla normale velocità. Questo cataclisma non può essere spiegato dal lavoro della teoria gravitazionale di Isaac Newton e dell'attuale movimento della Luna attorno alla Terra. Secondo le leggi di fisica, la velocità di rotazione della Luna non poteva cambiare così improvvisamente. Quindi qual è il problema? L'astrofisico americano giunse alla conclusione che si trattava dell'azione di qualche forza inspiegabile, che ne era la causa. Che tipo di forza? Per quale motivo non si è più manifestata? Robert Newton non fu in grado di spiegarlo. Per di più la discussione di questo problema, organizzata dall'Accademia di Scienza Britannica nel 1972, non ha portato a niente. Questo problema interessò il matematico russo Anatoly Fomenko, che decise di fare delle ricerche. I calcoli fatti da Robert Newton sembravano corretti, ma la conclusione sembrava molto strana. Invece Fomenko trovò la soluzione dove sembra che nessuno aveva mai pensato di guardare. I calcoli si basavano sui dati degli astrofisici americani, dell'eclissi del Sole e della Luna, che erano stati presi da antichi documenti, pertanto dovevano essere controllati e verificati. Così venne scoperto che i dati delle antiche eclissi potevano essere sbagliati. Una volta ho sentito parlare dello scienziato russo Nikolai Morozov, che espresse la sua opinione sulle antiche eclissi, dicendo che le date non erano corrette e che dovevano essere ridatate. Ha pubblicato i risultati dei suoi calcoli nel suo libro, il settimo volume dell'edizione chiamata Cristo. Ho letto i suoi libri che contengono le tavole corrispondenti dell'eclissi e ho visto che le nuove datazioni dell'eclissi, dove Nikolai Morozov aveva sistemato l'eclissi dell'antichità nel primo e nel tardo medioevo. Poi ho preso gli algoritmi di Robert Newton e ho conservato tutto, ma non le date dell'eclissi. Ho quindi messo le nuove date nel suo algoritmo, quelle di Nikolai Morozov, e le ho replicate nei calcoli di Newton. Una volta fatto questo è uscito fuori che tutte le tabelle erano costanti lungo una linea continua sull'asse del tempo. L'effetto di rallentamento era scomparso, svanito, e non era più necessario pensare ad una forza misteriosa nel sistema Terra-Luna. Questo aveva risolto il problema triviale del meccanismo celeste. Il caso dei calcoli di Robert Newton ed altri nuovi sospetti sono le giustificazioni che hanno indotto ad eseguire ulteriori ricerche dentro questo argomento. Una volta considerato con cura, in cui le datazioni e i dimetodi che usano gli storici e gli archeologi insieme a tutti i lavori di Nikolai Morozov, a Natoli Fomenko concluse non sono sbagliate solo le datazioni dell'eclissi, ma anche gli antichi documenti che possono contenere informazioni inaccurate. E per investigare iniziò dalle basi. Siamo a conoscenza che la versione tradizionale della storia ci è stata offerta da un filologo francese, Joseph Skaliker, editore e commentatore di antichi testi nella seconda metà del 1500. Nel suo libro Reclaiming the Chronology, egli descrive la cronologia di differenti paesi, dove si crede che sono tutti collegati in un'unica linea uno con l'altro. Inoltre, egli è stato il primo ad applicare il metodo di datazione astronomica dell'eclissi, ma almeno 400 anni più tardi, a Natoli Fomenko ha scoperto che il metodo medievale ha delle imperfezioni ed inoltre è stato usato per creare grandi e significativi errori. Pertanto egli è deciso di trovare un nuovo e più accurato metodo di datazione storica degli eventi. Questo è il solo metodo possibile per ricreare la vera cronologia della storia del mondo. Ovviamente, immediatamente sono apparsi gli oppositori di Fomenko. I primi furono gli storici. Quelli che hanno parlato prima di me sono in errore. Non prendete in considerazione il problema di Morozov. Questo ha iniziato con Isaac Newton i suoi due libri. Isaac Newton fu il più grande scienziato, lo scienziato numero uno. La storia non è la cronologia, la storia è il processo dove si sono momenti associati col sistema. Dichiaro che il lavoro di Fomenko sulla storia antica è irrilevante per il metodo matematico. Gli storici affermano che i calcoli delle datazioni sono un'area della storia e non della matematica. Tuttavia, questo tipo di comportamento degli storici è stato sconveniente. La cronologia apparve come scienza solo nel 1500 d.C. e per un lungo periodo è stato un ramo della matematica applicata. Ed è comprensibile perché facendo uso dei calcoli astronomici per valutare la loro accuratezza e decifrando antichi testi c'era il bisogno di ingaggiare precisamente i matematici. Così, nel XX secolo, la valutazione e l'accuratezza di questi calcoli che veniva fatta dai matematici era semplicemente logica. Questo lavoro di Fomenko è iniziato nel 1973 e per otto anni e gli ha sviluppato nuove metodologie di datazione. In questi anni ha praticamente lavorato da solo, ma fortunatamente più tardi guadagnò degli associati e il suo lavoro ha iniziato a procedere più rapidamente. Con l'aiuto dei suoi sostenitori, Fomenko avanzava con successo stabilendo ulteriori metodi come sviluppare nuovi metodi matematici e di statistiche di datazione. Negli anni recenti sono state create molte tecniche in collaborazione col matematico Gleb Nosowski. Nel 1981 avevo un coautore, Gleb Nosowski, ed insieme abbiamo creato nuovi metodi per integrare quelli che avevo creato dal 1973 al 1980. Poi iniziò a lavorare assieme a Vladimir Kalashnikov e con mia moglie Tatiana Fomenko e da allora abbiamo iniziato a lavorare insieme. Sfortunatamente Kalashnikov non è più con noi, morì per un attacco di cuore nel 2001. I metodi matematici che hanno sviluppato Fomenko, Nosowski e Kalashnikov sono precisi strumenti scientifici. Con loro aiuto potete verificare qualsiasi documento storico, registrazioni, mappe e biografie delle dinastie reali. Seguendo determinate regole ogni documento può essere formalizzato. Diventa una specie di unità statistica che viene assoggettata ad una rigorosa analisi incrociata, facendo uso di molteplici metodi e strumenti. Per comprendere questi metodi unici non è necessario essere un matematico. Non si usano molte formule e calcoli, ma andiamo deliberatamente a semplificare la presentazione per mostrare il principale concetto, l'essenza di questi metodi. Comparazione dei testi E' possibile anche confrontare testi differenti? Certamente, come sempre. Dopotutto ogni testo ha un significato definitivo e se andiamo a confrontare non solo i testi ma anche i documenti storici? Ad esempio, documenti differenti a prima vista descrivono spesso eventi differenti che sono accaduti in differenti tempi e differenti luoghi. Ma cosa succede se ci raccontano lo stesso evento storico e se si scopre che questo è possibile? Ma come facciamo a riconoscerlo? Semplicemente nel determinare se questi testi sono interconnessi o meno siamo in grado di percepirlo, ma l'umano non sempre è in grado di accettare o di accedere all'informazione in modo oggettivo. La propria visione può essere contaminata dallo stereoptipo dell'infanzia se non siamo in grado di fare affidamento sulle opinioni soggettivi, come possiamo controllare se il testo storico tratta dello stesso periodo o di un periodo diverso? Spesso accade che ci sono due descrizioni che sono apparentemente ed assolutamente, o meglio non sono simili, due libri che in apparenza sono differenti, ma secondo un'analisi matematica essi sono molto vicini. Se tenete nelle vostre mani due chiavi sconosciute, come potete determinare se sono uguali o differenti? La cosa più semplice è inserire le chiavi dentro il blocchetto della serratura, ma se questo non è possibile farlo? Dovete semplicemente confrontare l'immagine del profilo della dentellatura e una volta che combaciano sapete che le chiavi sono identiche. Può sembrare incredibile, ma possiamo fare questo confronto nello stesso modo con i testi. Per fare questo dobbiamo confrontare tutto come un grafico per poi andare a fare un confronto. Ma come si fa questo? Qualsiasi testo storico descrive gli eventi in sequenza, ed è così, seguendo gli anni. Una volta arrivati qui possiamo dividerlo in sezioni convenzionali, per esempio un anno uguale un segmento. Poi andiamo a considerare quanto materiale del testo viene applicato per ogni anno e questo è per ogni segmento. Possiamo usare le pagine di un testo, i numeri delle righe, le parole, le lettere o i simboli. La cosa principale è avere un numero che caratterizzi la montare del testo. Sull'asse orizzontale X vengono marcati gli anni e sull'asse Y vanno notati i numeri di materiali attribuiti. Per esempio, la descrizione del primo anno in questo testo occupa tre pagine in su, il secondo cinque pagine, il terzo zero, accade spesso, il quarto dieci e così via. Lo stesso programma della costruzione viene usata per il secondo testo. Le due linee interrotte con molte dentellature rappresentano la forma dei testi. A seconda della forma è possibile fare dei paragoni. Per esempio, i picchi nella parte superiore della dentellatura vengono denominati massimi locali e questo sistema viene chiamato il metodo della correlazione fra i massimi locali. In questo metodo il risultato del grafico viene confrontato punto dopo punto. Le altezze dei punti sul grafico non rappresentano un ruolo speciale. È molto più importante che per gli stessi anni sull'asse del tempo la punta corrisponda. Se la posizione dei picchi coincide, i profili di ambigrafici sono dipendenti. Il metodo è stato testato in molte dozzine di testi e ad ogni tempo e la sua efficacia è stata provata. È scaturito che se i testi ci raccontano dello stesso evento i picchi sul grafico accadono pressoché simultaneamente. Questa coincidenza può essere individuata facendo una comparazione, per esempio, di due testi, la storia di Roma dell'antico storico Titus Livi e il componimento della storia dell'antica Roma dello storico sovietico Vladimir Sergeyev. Le forme di questi testi creano dei picchi pressoché simultanei. Rivelano che parlano degli stessi eventi. In questo caso è abbastanza chiaro dai titoli che ambedue i libri ci raccontano dell'antica Roma. Usando questo metodo possiamo considerare i record che ci raccontano dei presunti eventi in date abbastanza differenti. Abbiamo il racconto degli anni passati che si crede sia stato scritto fra il 900 ed il 1000 d.C. E qui le cronache di Niki Forovs Kava che secondo gli storici è stato scritto nel 1300-1400 circa. Gli storici affermano che questi documenti sono separati da almeno quattro secoli di tempo e che descrivono eventi decisamente differenti ma i grafici di queste registrazioni all'improvviso coincidono. Sono calcoli matematici che dimostrano che stiamo probabilmente parlando dello stesso periodo storico di tempo. Questo significa che l'età di uno dei due documenti non è corretta e che l'errore è di 300-400 anni. Di esempi come questo ce ne sono molti. Ovviamente se si usano solo statistiche e matematica si possono avere veramente analisi oggettive dei testi antichi. Senza questi metodi sfortunatamente costruire la cronologia è impossibile. Se una persona vede che la forma delle chiavi è la stessa arriva alla sola corretta conclusione. Le chiavi aprono lo stesso cilindro. E se uno continua ad insistere che le chiavi sono differenti ci crederà? È difficile. In questo caso la verità per lui sarà ovvia perché ha una prova tangibile. Mappe Le antiche mappe possono raccontarci un sacco di cose interessanti. Dopotutto che cos'è una mappa è la rappresentazione della visione del mondo dell'umanità al tempo in cui è stata creata. E naturalmente è naturale assumere che tutto ebbe inizio con i metodi primitivi come questi. Ma la navigazione si sviluppava. Si combattevano guerre e venivano stabilite collegamenti per il commercio. Ed insieme a questi nuova informazione sulle terre e i paesi. Le informazioni erano molto importanti per ogni nazione. Pertanto avevano bisogno delle mappe. Ed ogni nuova generazione le mappe diventavano migliori e più accurate. Per esempio la mappa molto rara del 1522, l'Europa e l'Asia sono molto differenti dalle moderne immagini. La Groenlandia è disegnata come una penisola dell'Europa. Il Mar Nero è inclinato verticalmente. Il Mar Caspio è quasi irriconoscibile. La Cina è praticamente assente. Anche la mappa di Cornelius Nicolaas nel 1598 contiene delle distorsioni, ma sono già molto meno rispetto alla precedente mappa. E questo? Un monumento unico della cartografia europea, il grande globo Blau, realizzato dalla famosa ditta olandese Blau nel tardo 1600 per ordine del re svedese Carlo XI. Per quello che si può vedere ad occhio nudo è molto più vicino alla realtà rispetto alle mappe precedenti. Le forme dei continenti sono diventate molto più precise e ci sono molti nuovi territori. Questi esempi mostrano chiaramente che ad ogni nuova era dei mappe il numero degli errori delle informazioni grafiche diminuivano, mentre il numero delle corrette configurazioni aumentano. E questo è simile a come disegnano i bambini, a seconda della loro maturazione. Il modo con cui un bambino di sei anni disegna il mondo attorno a noi è veramente semplice. ed ingenuo. A dieci anni di età le proporzioni di un bambino sono molto dirette e più realistiche, con le persone abbastanza simili più o meno agli umani. Le caratterizzazioni di fantasia molto sovente non sono presenti e a 16 anni proverà a disegnare tutti i dettagli e le caratteristiche saranno molto vicine a come loro la vedono. La confusione della sequenza di questi passi è quasi impossibile. Noi possiamo paragonare le mappe in questo modo, ma per uno studio serio la sola comparazione visiva non è sufficiente, è necessario ottenere dati scientifici. E questi ci conducono al metodo di Anatoly Fomenko, il quale lo ha chiamato il metodo addetto della cronologia di ordine e datazione delle mappe antiche. Prendiamo due antiche mappe. Per esempio una mappa Schädel composta secondo quanto credono gli storici nel 1493. Una mappa di Peter Appian che si suppone risalga al 1520. Una mappa soli in USA fatta nel 1538 e una mappa di Raso Mercadora e Ondius nel 1607. Ad ogni mappa viene assegnato un numero di serie secondo la data ufficiale della sua apparizione, poi serve la completa descrizione di ogni mappa. E fatto questo viene compilata la tavola che contiene tutte le informazioni della mappa, se si tratta di una mappa piano o di un globo, globale o regionale, le orientazioni delle parti del mondo, la posizione dei poli, dell'equatore e le caratteristiche dei mari, delle nazioni e così via. Anatoly Fomenko ha chiamato questa tavola con le caratteristiche geografiche Map Code. Difatti si tratta di una caratterizzazione formalizzata delle mappe. La stessa caratterizzazione viene fatta per le altre mappe che vengono confrontate. A questo punto abbiamo raccolto le informazioni usate per costruire il grafico. Nella parte orizzontale vengono annotati il numero di serie delle mappe, nelle colonne verticali il numero dei lineamenti anormali, diciamo almeno fino a 24. Per ogni nuova mappa i lineamenti anormali si lasceranno andare gradualmente e questo è corretto mentre le forme esatte delle coste resteranno. In questo modo il numero totale delle anormalità dei disegni diminuiranno mentre il grafico andrà a fare una curva verso il basso. Di seguito lo stesso metodo è stato applicato alle mappe per il periodo antico e del primo medioevo. È saltato fuori che il risultato delle datazioni non era assolutamente consistente con quello che noi conosciamo delle tavole moderne. Per esempio le famose mappe di Ptolomeo che si presume risalgano al 200 d.C. è il risultato che sono dal 14esimo, 15esimo secolo d.C. muovendo l'asse del tempo di almeno mille anni. Oltre a questo, ad esempio, anche le mappe di Esiodo o di Euclide provano che sono lontane dal quinto al terzo secolo prima di Cristo, ma che sono del medioevo fra gli anni 1100-1200 d.C. E la famosa mappa di Peutinger, un'antica mappa dell'impero romano, ha innalzato la scala del tempo piazzandola attorno al 1400 d.C. Prima di noi la famosa mappa di Hans Rusten del 1480 chiaramente non assomiglia per nulla ad una mappa, bensì ad un bel dipinto. In linea di principio questo corrisponde allo sviluppo della cartografia del 1400. Adesso, se andiamo a fare un paragone, andiamo a prendere una di queste cosiddette antiche mappe di Ptolomeo. La contraddizione è ovvia. Questa mappa, presumibilmente del 200 d.C., è consistente con la geografia dell'era di Colombo. Sembra, come si è pensato molto prima del 1400, del tempo antico, che l'uomo abbia creato mappe dettagliate con sufficienti importanti dettagli. Poi, improvvisamente, ha perso tutta la conoscenza e la capacità tornando indietro allo stato primitivo. Tuttavia, l'umanità non ha sperimentato alcuna catastrofe globale. Il suo sviluppo non è stato interrotto e le nuove generazioni non hanno iniziato la loro conoscenza da zero. Da dove sono state generate queste presunte antiche mappe, al momento, piuttosto realistiche? Su questo paradosso, gli stessi storici cartografi non sono in grado di fornire una spiegazione, ma siamo in grado di arrivare ad una spiegazione usando il metodo di ordinamento delle mappe di Fomenko. Questo metodo ci permette di calcolare tempo reale dell'avvenimento delle cosiddette mappe antiche di Ptolomeo. Sono state create non prima del 1400-1500 d.C. E questo significa che la cronologia tradizionale non solo è soggetto di negligenza, ma di errori di centinaia, se non qualche volta di migliaia di anni. È come se qualcuno volesse credere che un piccolo bambino, che ha appena imparato a tenere in mano una matita, possa essere in grado di disegnare un accurato e vivido ritratto di un uomo. Poi, anziché un disegno corretto, ancora una volta inizia a disegnare degli alberi primitivi, delle persone sproporzionate. Questa sequenza è verosimile, molto probabilmente. Questi disegni fatti dai bambini sono stati mescolati. Ed è così, è l'unica spiegazione. DINASTIE FANTASME Fra gli storici, da parecchio tempo esiste la percezione, da parte di chi stila la cronologia, nel descrivere i regnanti più recenti, la necessità di menzionare altri antichi re morti da molto tempo. La storia tradizionale ci assicura che questo strano fascino, nei riguardi dei membri dell'antichità, era diffuso fra i cronisti. La causa di questo è che esistono parecchi casi dove le biografie citano gli antichi regnanti. Per tracciare queste ricorrenze, non è sufficiente esaminare semplicemente un grande numero di biografie storiche. Questa informazione ha bisogno, in qualche modo, di essere quantificata. E per fare questo, Anatoly Fomenko ha sviluppato una tavola che ha chiamato modulo-codice e in questo modulo c'è un questionario dove uno può applicare ogni cronaca o biografia e di seguito analizzarle, nonostante la valutazione discutibile del cronista. Il modulo-codice consiste di 34 oggetti e contiene informazioni dettagliate del regnante, del suo sesso, la durata della vita, la durata in carica del regno, la tipologia di carica, un imperatore, un capo militare, un capo religioso, la causa della morte, i disastri naturali, i fenomeni astronomici, le guerre, le cospirazioni ed altre cose che sono accadute durante il suo comando. Anatoly Fomenko poi ha fatto un lavoro tremendo. Ha cercato dei codici nel questionario con parecchie centinaia dei maggiori antichi regnanti. A questo punto noi possiamo semplicemente prendere ogni modulo di codice e paragonarlo con gli altri. È molto importante perché con questo metodo non solo si possono paragonare le cronologie biografiche di un individuo, ma tutta l'intera dinastia dei regnanti. Si possono paragonare due dinastie e per ogni dinastia, ad esempio, siamo in grado di scegliere 20 profili di codici di re che hanno regnato di seguito e questo è uno dopo l'altro, con una sequenza del genere che Anatoly Fomenko ha chiamato flusso del modulo codice, per prima cosa ha confrontato il modulo codice con il primo regnante della dinastia e poi con il primo regnante di un'altra dinastia, poi ha confrontato i successivi moduli codici e così via. E con questi confronti è importante sapere che se si scoprivano che solo due dinastie erano paragonabili non significava nulla, ma si possono trovare molte biografie simili nella storia. Ed è chiaro che non c'è una conclusione cronologica che possa scaturire da questo. Per calcolare come due dinastie possono essere simili, Anatoly Fomenko ha sviluppato un fattore speciale che viene usato per paragonare ogni serie di questionario dei codici. Per chiarire confrontiamo il flusso dei moduli codice che possono essere rappresentati graficamente. Vengono annotate in orizzontale tutti i numeri di serie di ogni primo regnante di una dinastia che si è scelto ed in verticale la durata della sua carica in anni. Fomenko ha chiamato questo profilo della dinastia. Un profilo come questo può essere costruito per ogni tipo di dinastia ed un profilo così è particolare solo per questa cosa. Da questo profilo si può identificare sempre una dinastia. Andiamo a costruire un grafico simile per la seconda dinastia. A questo punto siamo in grado di confrontare i risultati dei moduli. Se i due profili delle due dinastie hanno differenze minime una dall'altra allora esse rappresentano la stessa reale dinastia. Fomenko ha chiamato questo il principio delle piccole distorsioni e gli ritiene che i cronisti, anche se qualche volta hanno sbagliato sulla durata in carica dei regnanti, erano comunque abbastanza accurati. Di conseguenza i profili ottenuti in base a questi documenti possono essere considerati dei ritratti equi. Dalla nascita ogni persona ha delle caratteristiche che li collocano in disparte da tutte le altre persone sul pianeta, non solo dai propri contemporanei, ma anche dai suoi discendenti o dai suoi antenati. Come possiamo confrontare il profilo di due persone? I nomi sono diversi, hanno differenti biografie e hanno documenti diversi, ma siamo in grado di trovare qualche rassomiglianza? Le apparenze si possono cambiare, si possono tingere i capelli, si può incollare la barba oppure i baffi, si può fare una chirurgia plastica, certamente, ma il DNA e le impronte delle dita non possono essere cambiate, sono individuati ed uniche. Nonostante questo, avendo un data base sufficiente, si può sempre identificare quale persona si cela dietro una nuova sembianza o un nuovo nome. I profili delle dinastie calcolate dai matematici sono come le impronte digitali o il DNA, e così, all'improvviso, alcune sorte di documenti storici rivelano una nuova presunta dinastia sconosciuta, e serve solo creare il suo profilo per poi confrontarlo con uno dei profili di quel data base. Questo grafico mostra i profili di due dinastie regnanti, l'antico regno di Giuda, dalle 600 circa a 0 prima di Cristo, e l'impero romano orientale, da 300 circa al 700 dopo Cristo. E qui troviamo i profili delle dinastie regnanti, il sacro romano impero medievale dal 900 al 1300 dopo Cristo, e l'impero d'Asburgo medievale dal 1200 al 1650 dopo Cristo. Se sistemiamo questi profili in parti opposte da un asse, sono praticamente simmetriche. Questo significa che appartengono alla stessa dinastia? La visualizzazione di questa similarità pone degli interrogativi. Per fare questo dobbiamo calcolare la probabilità di una coincidenza accidentale. Il risultato è che questa probabilità è trascurabile. C'è all'incirca una probabilità su centinaia di miliardi che dinastie di rei in periodi differenti, in differenti stati, possano essere così simili l'uno all'altro. Nelle dinastie ufficiali della storia, questi duplicati si sono riscontrati molto spesso. Abbiamo trovato un paio di dinastie, che al momento consideriamo completamente differenti, che hanno regnato in nazioni differenti ed in tempi differenti. Per esempio la dinastia regnante dell'antica Roma e le altre nell'Europa medievale. Tuttavia il nostro metodo inaspettatamente ci ha mostrato che i grafici di queste dinastie sono sorprendentemente simili. Sono così vicini che possiamo automaticamente associare che un paio di dinastie sono le stesse. Possiamo chiamare questi paio duplicati o fantasma. Alla fine salta fuori che ne esistono parecchie, se non più di qualche dozzina. Questo perché il metodo usato mostra che alcune delle dinastie regnanti erano semplicemente copie nella storia, erano solo duplicati sulla carta. Come poteva essere accaduto questo? Probabilmente per due ragioni. Primo, l'errore poteva essere stato fortuito a causa dello scarso sviluppo linguistico di quel tempo. Per esempio, due antichi documenti che descrivevano la stessa dinastia, ma interpretati o malinterpretati e presi come se si trattasse di due dinastie differenti. Pertanto hanno assegnato dei nuovi nomi e le hanno passate su carta. E non solo in un altro luogo, ma anche in un altro periodo di tempo. Secondo, e questa è la ragione più importante di errori come questo, è stato fatto intenzionalmente, a causa di alcune potenti forze durante il Medioevo. È una cosa importante dover riscrivere la storia per l'interesse di dover nascondere qualcosa. La scoperta dei duplicati delle dinastie ci ha portati ad un nuovo pensiero. Forse non tutti gli avvenimenti storici sono stati esposti nello stesso ordine cronologico secondo quello che è successo veramente. Il cronista, nel descrivere gli eventi, era sicuro di menzionare i re e le persone importanti di quella data era. Era naturale raccontare quello che era di maggior interesse per lui. Per il cronista era importante che nulla venisse confuso. Pertanto egli cercava di descrivere accuratamente i suoi personaggi, dando ad ognuno un nome diverso. Questi nomi dei personaggi storici sono la migliore guida nell'analisi dei testi. Un diario personale può raccontare molto del suo possessore. Per esempio, il diario del ragazzo Peter frequentava la scuola superiore, era amico di John e Mary. I nomi di John e Mary si trovano letteralmente in ogni pagina e per molte volte, ma gradualmente la citazione di questi nomi diminuisce. E questo è comprensibile. Peter si è diplomato alla scuola superiore e si è iscritto all'università. inizia una nuova vita con nuovi amici e per quanto riguarda John e Mary non li vede più spesso e verso la fine del diario i loro nomi saranno completamente spariti. Ed è comprensibile. Peter, una volta laureato all'università, mette su famiglia e non vedrà più i suoi amici della scuola superiore. La stessa logica viene mantenuta nelle cronologie storiche. Ogni nuova generazione ha creato nuovi eroi. Pertanto i cronisti, passando da un resoconto ad un altro, cambiano personaggi e narrazione. Questo nuovo principio è stato usato per creare un metodo di datazione. Per verificare se ci sono state interruzioni nell'ordine cronologico degli eventi, abbiamo costruito un grafico. Orizzontalmente abbiamo annotato le sequenze di parti del testo e verticalmente il numero di tutte le occorrenze di tutte le figure storiche, dopo che erano state menzionate in ogni parte della cronaca. Se gli eventi sono descritti nell'ordine cronologico corretto, la curva del grafico dovrà andare a diminuire. Un grafico come questo deve essere costruito per ogni parte del documento e per ogni menzione del personaggio. Questo principio, Anatoly Fomenko l'ha chiamato il principio dell'attenuazione o delle frequenze ed il metodo che si basava su questo principio, il metodo dell'ordinamento cronologico dei testi nel tempo. È stato provato ripetutamente dai documenti storici, dal 1600 al 1900, che questo metodo è completamente confermato. Da qui la storia di questo tempo è veramente quello che affermano sia stato. Ma quando viene applicata sulle cronache precedenti accadono cose incredibili. I grafici delle antiche cronologie costruito con il grafico di Fomenko spesso mostrano linee interrotte con scatti improvvisi anziché delle curve degradanti. E questo è perché i nomi dimenticati da lungo tempo delle figure storiche appaiono con la stessa frequenza in ogni parte. e questa non è una svista della storia corrente, ma succede nelle stesse antiche cronologie tinte attraverso la storia. Se fossero state messe in ordine, la forma dovrebbe essere più appropriata con la curva che va verso il basso. Se nelle ultime pagine del diario di Peter si parlasse solamente degli amici dimenticati da tempo della scuola superiore, che cosa significherebbe? Che Peter ha immediatamente dimenticato tutti quelli che erano attorno a lui? Egli non ha più comunicato con gli amici dell'università e di colleghi? Non ha iniziato nuove conoscenze? La sua vita adesso è solo con John e Mary? È difficile crederlo. Molto probabilmente queste pagine sono state semplicemente omesse all'inizio del diario e per errore sono state aggiunte alla fine. Questi esempi che vi abbiamo mostrato dimostrano chiaramente come la storia dell'umanità è stata manomessa. La cronologia di questa storia non solo è stata spezzata in più parti, ma richiede una completa e totale revisione. Come possiamo vedere tutte le contraddizioni standard della versione della storia. Forse dovremmo fare una mappa di tutte le cronologie tradizionali? Ad una prima occhiata sembra impossibile, ma nonostante tutto è realizzabile. MAPPA CRONOLOGICA GLOBALLE Anatoly Fomenko decise di scoprire come appariva veramente la storia del mondo e verso la fine si accense a fare una tremenda impresa. Ha studiato centinaia di antichi testi, tavole, documenti, libri. Ha rivisto la storia antica e medievale dell'Europa, dell'Egitto, del Medio Oriente e del Mediterraneo. Ha studiato molti dei documenti che descrivono i principali eventi della storia dell'umanità, che presumibilmente sono accaduti nel corso di 6.000 anni, dal 4.000 prima di Cristo al 2.000 dopo Cristo. E per offrire tutte queste informazioni visivamente Anatoly Fomenko ha redatto un documento del quale fino ad allora non esistevano precedenti. Ha lavorato su questo per 6 anni. In tutte le informazioni raccolte ha descritto in larga scala la cronologia elaborata l'asse del tempo lungo una linea orizzontale. Essa consisteva di precise date del tempo in cui i fondatori della versione tradizionale della storia insistevano. Scaligero e Petavius primo vennero disegnate le mappe su un documento grafico in seguito vennero scannerizzate le immagini e trasferite su uno speciale materiale. Questo modello unico ha avuto l'effetto sulla sua grandezza. la lunghezza della mappa è di 19 metri e questa era la prima rappresentazione grafica della storia che viene insegnata nelle scuole e nelle università. Questa mappa contiene decine di migliaia di nomi contiene parecchie migliaia di date di informazioni sulle agitazioni dei principali libri delle risorse originali le cronologie delle loro datazioni le cronache dell'autore l'autore gli avvenimenti astronomici e così via. Poi questo materiale è stato valutato usando le tecniche sviluppate da me e dai miei colleghi e ho notato su questa mappa dove c'erano dei duplicati e così periodi dove veniva mostrato che erano simili attraverso questi metodi. Com'è stato fatto questo? Anatoly Fomenko ha diviso la storia del mondo in alcuni punti. Poi ogni dettaglio quello di ogni era è stato sistemato sull'asse del tempo periodi che avevano similarità vennero spostati per essere simultanei sull'asse del tempo. Per mostrare quanta sovrapposizione esisteva nella cronologia tradizionale degli eventi storici Fomenko per ogni intervallo di tempo ha segnato una lettera. Per esempio l'era del secondo impero romano è stata marcata con la lettera K la stessa lettera è stata usata per marcare gli stessi duplicati che ha scoperto Fomenko. Altri periodi storici così come i loro stessi duplicati vennero identificati con altre lettere per esempio la C e poi la P vennero a loro volta marcate sulla mappa. Così è emersa una struttura che mostrava sia l'asse del tempo che la ripetizione degli eventi storici. questa mappa venne chiamata mappa cronologica globale ed è così. Mostra quello che potrebbe essere la vera cronologia storica degli eventi e diventa apparente che nella cronologia tradizionale ci sono tre spostamenti di tempo importanti approssimativamente 300 anni 1000 anni e 1800 anni e molti degli eventi storici reali del medioevo sono stati copiati su carta dalle cronologie medievali e spedite indietro nel tempo. Come può essere accaduto questo se le cronologie del medioevo erano state degli errori non intenzionali? Prendiamo quattro cronologie antiche tutte quante descrivono lo stesso evento che è accaduto ad esempio in Europa nel 1400 ma gli autori di queste cronologie non solo sono vissuti in stati differenti ma anche in tempi differenti parlavano e scrivevano lingue differenti ed usavano calendari differenti non si tratta di una sorpresa raccontare dello stesso re città o battaglia quando hanno dato dei nomi completamente diversi tuttavia quando i cronisti fra il 1500 e il 1600 lessero questi documenti hanno deciso che parlavano di quattro differenti ere e anziché mettere tutti questi resoconti insieme simultaneamente sull'asse del tempo li hanno sistemati in sequenza ed è successo così uno dopo l'altro dopodiché hanno lasciato una cronologia nel 1400 la seconda l'hanno spostata indietro di 300 anni e la terza indietro di 1000 anni e la quarta indietro di 1800 anni se la mettiamo insieme tutte quante avremo una lunga storia solo con l'aiuto della statistica matematica possiamo ottenere un'analisi oggettiva e vera dei vecchi testi senza di questo sfortunatamente è impossibile costruire una cronologia tuttavia per noi la corrente cronologia non è mai stata stabilita veramente si basava su metodi veramente soggettivi e fin tanto che la cronologia non usa metodi matematici statistiche e l'astronomia il campo della storia sarà molto soggettivo ed avrà delle fondamenta molto vacillanti possiamo dire che oggi il progetto della nuova cronologia di Fomenko Nozowski consiste di due parti la prima parte nuovi metodi matematici per lo studio dei testi antichi e delle mappe così come è stata fatta la prima volta la nuova mappa cronologica questa mappa esiste sulle basi della valutazione degli antichi testi storici e delle mappe usate attraverso i metodi menzionati precedentemente la seconda parte questo è il tentativo della ricostruzione della storia che si basa sulla scala della nuova cronologia nel ricostruire la cronologia i matematici Anatoly Fomenko e Gleb Nozowski hanno realizzato che era necessario ricostruire la storia mondiale perché la storia tradizionale è adagiata su una falsa cronologia l'accademico Fomenko è supportato da altri premiati scienziati i suoi studi hanno attirato l'attenzione di colleghi non solo in Russia ma anche all'estero in Germania studi simili hanno coinvolto Eugen Gabovic matematico storico e scrittore lavora su storia analitica inerente allo sviluppo di Anatoly Fomenko Quando parlo della nuova storia russa uso il termine rivoluzione cronologica e pongo grandi speranze su su essa ma la storia della filosofia e di ideologica cimentano sul passato che non descrivono il passato o meglio descrivono una specie di fantasia del passato ma possono diventare parte reale di questo passato Alexander Alessandrovich Zinoviev un prominente filosofo e scrittore russo logico professionale ha studiato i lavori di Fomenko e Nosovsky ed immediatamente è diventato il loro sostenitore quando ho trovato il libro di Fomenko sono stato semplicemente impressionato ho provato grande piacere in pochi giorni mi sono veramente impressionato da questo libro e per la prima volta nella mia vita mi sono trovato di fronte ad una vera e grande scoperta scientifica di una vera di una vera di una vera di una vera scientifica e ho sentito un'attività Vitaly Sundakov, giornalista e scrittore penso che Anatoly Fomenko non è solo uno scienziato brillante ma anche una delle figure prominente del XXI secolo paragonabile a Giordano Bruno e Galileo per quanto riguarda le ricerche sulla vera cronologia questo coinvolge Isaac Newton Nikolai Morozov ed altri scienziati ma per un'analisi metodologica scientifica la matematica e questo ovviamente è stato mostrato al mondo da Fomenko i risultati dei matematici Fomenko e Nosowski sono stati un successo questi nuovi metodi hanno aiutato a trovare nuove risposte ai misteri che gli storici considerano ancora irrisolti inoltre i metodi hanno scoperto fatti storici che erano semplicemente sconosciuti per esempio si è rivelato che la storia russa viene radicalmente cambiata se la storia dell'Europa e dell'Asia è stata allungata artificialmente significa di ritorno che quella russa va accorciata considerevolmente i metodi di Fomenko rivelano che molti dei personaggi leggendari storici sono veramente esistiti ma è saltato fuori anche che c'erano delle controparti storiche delle riflessioni fantomatiche delle reali figure storiche esistite purtroppo ci si accorge che per molti anni l'umanità ha avuto a che fare con un grande inganno storico tutti gli eventi che presumibilmente si sono verificati prima del Novecento dopo Cristo sono fantomatiche riflessioni dei veri eventi del Medioevo ed è così dal 1000 al 1600 dopo Cristo sono stati datati in modo incorretto e sostituiti come storia reale dell'umanità comunque gli autori della nuova cronologia si assumono una grande importanza scientifica credo che questa scoperta è una delle più grandi scoperte storiche del XX secolo è la più importante scoperta nel processo di conoscere il passato dell'umanità su quanto appare essere la storia vera dell'umanità secondo Anatoly Fomenko e Gleb Nosovsky andremo a descrivere dettagliatamente nel film che seguirà la nostra serie popolare storia o scienza o invenzione il film si mostrerà insolito, sorprendente ed anche scioccante le antiche civilizzazioni ci hanno lasciato non solo monumenti ma anche molti enigmi uno di essi sono le misteriose piramidi egiziane chi ha costruito queste magnifiche strutture? come hanno fatto gli antichi costruttori a lavorare a muovere questi enormi blocchi di pietra? l'antico mistero degli antichi egizi è ancora irrisolvibile? per questo, per cortesia, guardate il nostro prossimo video l'alchimia delle piramidi come sono state costruite nell'antico Egitto ania che fa l'antico l'antico